La potenza del clacson dei trattori rappresenta la rabbia dei tanti agricoltori che questa mattina sono arrivati a Padova da tutto il Veneto e anche da fuori regione, Udine, Mantua e Piacenza dalle 8.30 del mattino fino alle 13 quando l'ultimo convoglio di oltre 250 trattori ha fatto il suo ingresso nel parcheggio dello stadio Uganeo. Alla fine secondo gli organizzatori erano in mille. Qui in Veneto abbiamo il problema che la regione Veneto, la VEPA, non sta pagando gli agricoltori praticamente mancano oltre 200 milioni di soldi che devono arrivare nelle tasche degli agricoltori e che non abbiamo capito perché non stanno. Si danno la colpa il governo contro la regione e la regione contro il governo fatto sta che gli agricoltori non portano a casa soldi. Una protesta per chiedere dignità per il loro lavoro dai costi di produzione alti alla concorrenza sleale dei paesi europei. Stiamo già organizzando, vogliamo fare una protesta nei pressi di Van Cimuglio, zona Grisignano, Vicenza Est. Lì è un luogo simbolo dove è partita tutta la disgregazione del settore agricolo, la rovina del nostro settore. Quindi dopo 27 anni non è cambiato nulla ma anzi le cose sono peggiorate. Quindi vogliamo ritornare lì. Una protesta animata. Nel primo pomeriggio non sono mancati i momenti di tensione quando un gruppo di agricoltori chiedeva di andare a piedi all'hotel Cronplata di Limena dove era in corso una riunione di confagricoltura a Veneto. E' una protesta! E' una protesta! E' detto così che possiamo andare. Facciamo gruppi da dieci e va bene. Grazie. Fermati dopo un lungo confronto con gli uomini della Digos e gli agenti schierati per impedire il passaggio, alla fine gli agricoltori hanno deciso di rimanere nel parcheggio dello stadio dove è arrivata una delegazione di confagricoltura guidata dal presidente Lodovico Giustiniani. In cura d'Italia! Bravo! Tu! E' bello e tu! Sì, sì, però c'è... Sì, sì, no, no! No, hai ragione! Appoggiamo la cosa! Per quanto... No, no, ma assolutamente! Non serve a portare l'Italia a mandare la portazione del gretto? No, mette in pratica, no? Ciao! Il confronto sul palco è stato animato ma alla fine la giornata si conclude con i trattori che si rimettono in marcia per tornare a casa pronti per manifestare ancora.